Benvenuti a tutti, questo è uno dei nostri eventi esterni, che significa che in Pi Campus facciamo eventi interni, dove ci divertiamo e non invitiamo nessuno. Eventi esterni, dove invitiamo un ospite che possa portare contributo nuovo al nostro ecosistema, motivazione, informazioni, strategia, un punto diverso di visione. Quindi sicuramente oggi non sentirete parlare di niente legato alle cose che esattamente state facendo oggi, vogliamo parlare di quello che potrebbe succedere nel futuro e capire oggi se c'è qualche modifica al modo che abbiamo di pensare per poter cogliere opportunità che arriveranno un po' più tardi nel tempo. Quindi è un piacere per me avere David che... Che sta facendo il pagliaccio accanto. Sto facendo il pagliaccio, che conosco da tanti anni ormai, quando abbiamo fondato Memopal perché lui era il distributore in Italia del competitor di Memopal. Quindi al solito le cose nascono per odio che poi si trasformano in amore, no? Per questa cosa, quindi stranamente il percorso... avevamo questa cosa del futuro che ci lega, nel senso che lui è un vero futurologo, cioè studia questo per mestiere. Stranamente però, un'altra cosa che ci ha unito è che dopo essere stato distributore di Memopal, quindi un cloud storage, quindi di Carbonite, un nostro competitor, si è messo a fare un altro competitor nell'ambito della traduzione. Quindi fa dot sub, che fa i sottotitoli, oggi lui è il CEO di dot sub, che è una società che lo apre quasi a New York, che fa sottotitoli per i video e offre servizi di traduzione di sottotitoli. E in questo piccolo frangente siamo competitor, a noi ci piace competere. E il background, però, il motivo per quale lui è qui non ci parla tanto di sottotitoli, quanto del futuro. David insegna e è writer della Singularity University, che è un progetto molto interessante, non so se tu hai qualche slide, perfetto, allora non anticipo niente. E quindi non aggiungo altro, è d'oltre venuto a David, diamogli un applauso. Grazie. Grazie dell'introduzione Marco, grazie dell'invito e per la numerosissima partecipazione. Questo anfiteatro è incredibile, ho fatto un po' di riprese, stiamo facendo anche la registrazione del video, per cui se qualcuno si stufasse di stare in piedi, o comunque magari c'è un collega che vuole vedere la registrazione successivamente, lo darò a Marco e, giustamente, lo dividiamo, il futuro deve essere sostenibile, non solo ecologicamente, ma anche economicamente. E come questa sostenibilità lo si raggiunge, in effetti è un po' dei temi di cui parleremo. Ma l'occasione per voi di ascoltare deve essere, spero, solo la partenza per continuare poi una conversazione che a vostra scelta potrà approfondirsi ed ampliarsi su altre piattaforme. Qua vedete un po' di miei contatti Twitter, ma sono molto facilmente googlabile e mi farà piacere se vorrete contattarmi su Facebook o LinkedIn o qualunque altra cosa. Abbiamo circa 200 slide da gestire in una quarantina di minuti, per cui sarà più o meno un filmato e non in effetti la proiezione di una sequenza di immagini. Alla Singularity University noi ci occupiamo di cambiamento esponenziale, cioè di come la interpretazione generalizzata di quelli che molti di voi conoscono come legge di Moore, a partire dall'informatica oggi sta invadendo tutti i campi economici e sta cambiando anche l'ordine sociale, l'organizzazione della nostra civiltà planetaria. Da un'idea iniziale di Ray Kurzweil e Peter Diamandis, che ne sono i due fondatori, con un apporto fondamentale di Google al campus NASA Research di Ames, la Singularity University è nata per dare ispirazione ad una nuova generazione di persone che siano in grado di leggere questi segnali deboli di una tecnologia che avanza accelerando. I corsi che organizziamo hanno l'obiettivo di dare un impatto dirompente in termini positivi delle applicazioni di queste tecnologie in campi diversissimi, intelligenza artificiale, robotica, energia e trasporti, biotecnologie, biologia sintetica e applicazioni che poi vengono ognuna analizzate e declinate nella chiave di lettura del cambiamento esponenziale che migliora le prestazioni delle varie tecnologie facendole passare da una fase in cui sono quasi impercettibili anche per gli esperti difficili da decifrare, in una fase dove ognuno può saltare sul carro del vincitore e dire ah sì sì io sono un futurologo, l'avevo predetto, avevo ragione e che caratterizziamo attraverso le 4D della digitalizzazione, della dematerializzazione, della demonetizzazione e della democratizzazione dell'accesso a queste tecnologie. Quello che facciamo è di invitare gli studenti che partecipano ai nostri corsi ad applicare poi quello che imparano con idee che possano migliorare la vita di più di un miliardo di persone in meno di 10 anni. Questo è il potere, questa è la leva di cui noi siamo capaci oggi e che l'infrastruttura globalmente disponibile di internet, dei telefoni cellulari, del passaggio rapido delle informazioni che non sono più divise in silos isolati permette di ottenere. Oltre ai corsi che abbiamo organizzato, sia i corsi estivi di 10 settimane che i corsi executive di una settimana durante l'intero arco dell'anno abbiamo anche una innovation hub e una comunità che si sta ampliando sempre di più per accogliere iniziative che non sono solo in California ma giustamente da Roma a Tel Aviv, a Bangalore, a Taipei abbracciano tutto il mondo. annunceremo a breve in effetti un ampliamento delle iniziative della Singularity University che realizzerà ancora più concretamente questa opportunità globale anche per coloro che complementando la natura necessariamente esclusiva della scuola alla sede centrale nella Silicon Valley potranno partecipare con entusiasmo e con passione a questi programmi ovunque si trovino nel mondo. secondo me è morto, poverino i temi che oggi tratteremo sono in effetti molteplici e hanno delle caratteristiche tali da avere una intrinseca incertezza e di conseguenze che sono difficili da gestire e da prevedere vi voglio per esempio chiedere se qualcuno vuole dirmi e quelli che eventualmente l'hanno già sentito non vale la pena, non vale che svelino il nesso tra le macchine robotiche di Google e la stampa 3D degli organi umani qual è il nesso? e come mai adesso che si stanno presentando sul mercato le prime la seconda sta avendo uno sviluppo così apparentemente repentino? il legame sta nel fatto che la prima causa di morte in età giovane tra i 20 e i 35 anni oggi sono gli incidenti stradali e quando una persona giovane muore i suoi organi vengono espiantati per dare vita a quelli che ne hanno bisogno si prevede che le macchine robotiche diminuiscano di oltre 90-95% la mortalità per incidenti stradali, probabilmente anche di più causando una carenza di organi da impiantare e quindi c'è una esigenza di realizzare organi che non provengono da persone vive ma che vengono coltivate e che vengono realizzate con tecnologie simili a quelli che cominciamo a conoscere della stampa 3D questo tipo di incertezza delle tecnologie esponenziali che non sono isolate ma che si intrecciano fra di loro ha un aspetto che porta a conseguenze inattese come abbiamo visto e che rende la complessità delle tecnologie esponenziali difficile da gestire un altro esempio di questa complessità è l'influenza dirompente che la diffusione sempre più capillare dell'analisi del DNA avrà sull'industria assicurativa che oggi fa leva sulla ignoranza statistica che abbiamo relativamente al destino nostro individuale per metterci in comodi gruppi che possono essere gestiti relativamente alla incidenza di certi eventi malattie e quant'altro ma nel momento in cui io so che ho una probabilità statisticamente inferiore di ammalarmi di qualcosa in base a quello che mi indica il DNA e naturalmente influenzato dal mio comportamento potrò evitare di prendere l'assicurazione oppure al contrario se so che sono maggiormente esposto a questa possibilità sottoscriverò il contratto ma le assicurazioni non saranno più in grado di neutralizzare gli effetti di uno e dell'altro attraverso la gestione statistica di questi eventi nello stesso tempo queste sono opportunità incredibili già ci stiamo avvicinando alle società quotate da un migliaio di miliardi di dollari di capitalizzazione in borsa e ci sono piani che immaginano economie che crescono per permettere iniziative che abbiano un valore di milioni o di miliardi di miliardi di dollari equivalenti di oggi e ognuna di queste realtà è nutrita dallo sviluppo esponenziale se vent'anni fa avevamo i personal computer dieci anni fa cominciavamo a diffondere in decine o centinaia di milioni di esemplari i nostri cellulari oggi questi sono di un ordine di grandezza che equivale a quello dell'umanità ma cosa importantissima solo perché questo ordine di grandezza rappresenta per noi un numero importante una soglia il fenomeno esponenziale non si ferma lì non dice ah ok siccome adesso ho raggiunto una saturazione non mi sviluppo più i chip continuano a diventare più potenti più economici e le società quotate in borsa Intel, Qualcomm, Cisco eccetera vogliono vendere altri device che quindi saranno più numerosi decine di miliardi, centinaia di miliardi, migliaia di miliardi che non gli esseri umani le conseguenze di questo cambiamento confondono anche gli esperti il progetto Genoma Umano partito nel 1985 con un piano di 15 anni di sviluppo aveva un budget di 3 miliardi di dollari e a 7 anni dalla partenza del progetto era solo a 1% dal obiettivo e anche chi se ne intendeva raccomandava di abbandonare il tutto perché non c'erano 300 miliardi di dollari e 700 anni a disposizione non si rendevano conto che raggiunto questo andamento attraverso raddoppi progressivi da 0 a 1% quello successivo arrivava al 2, al 4, all'8, al 16, 32, 64 e dentro esattamente i limiti del progetto previsto hanno raggiunto il 100% ma non si è fermato lì e oggi è possibile avere quello che costava 3 miliardi di dollari nel 2000 a circa 1.500 dollari ma non si ferma lì perché è previsto che nel 2020 la decodifica di ognuno dei vostri DNA abbia un costo di circa 2 centesimi immaginate di vivere in quel mondo e ci sono persone che ci vivono già il presidente degli Stati Uniti è seguito non solo da quel gruppo dei servizi segreti che si butta davanti a lui quando gli sparano c'è un altro gruppo che invece di essere armato di pistole è armato di aspirapolveri perché devono raccogliere ogni traccia del DNA del presidente in una qualunque stanza sia passato che sia un capello che sia un pezzo di pelle che sia un'impronta digitale sul bicchiere perché il suo DNA non possa essere raccolto da un agente nemico questo è il contesto in cui ci muoviamo oggi questa è la realtà che ha fatto decidere a William Gibson scrittore di fantascienza di non scrivere più del futuro lui dice il futuro è già qui solo non è ancora uniformemente distribuito e i suoi libri di fantascienza si sviluppano nel presente altrettanto sorprendenti altrettanto inaspettati come quelli che potevano essere descritti da Arthur Clarke o Isaac Asimov in migliaia di anni nel futuro e l'accelerazione che noi vediamo è qualitativamente non solo quantitativamente diversa da quella del passato quando gli schiavi egiziani costruivano le piramidi si rendevano conto che la loro condizione non era moralmente accettabile ma non avevano nessuna capacità di intervento non avevano possibilità di cambiare la natura sociale espressa dalla base energetica allora disponibile che era quella muscolare umana o animale se io avevo un pezzo di roccia da spostare o la spostavo io oppure ti dicevo spostala e se mi dicevi di no ti uccidevo o ti facevo schiavo e così abbiamo dovuto aspettare nel medioevo che si sviluppasse la capacità di utilizzare l'energia eolica e idraulica locale non per niente i vassalli del feudalesimo erano relativamente più liberi degli schiavi ma non potevano lasciare l'area del signore feudale che li improgenava in un ambito un po' più ampio due o tre secoli fa abbiamo cominciato la rivoluzione industriale che utilizzando l'energia più facilmente trasportabile del petrolio e del carbone ha permesso le grandi migrazioni verso le città ha organizzato le nostre attività sociali attorno alle fabbriche e che ha comportato una trasformazione della società oggi possiamo chiederci quali sono le soglie di cambiamento e in base che cosa arriveranno e come sarà la società che ci troveremo di fronte che avrà un cambiamento così radicale come quello dai romani ad adesso se voi chiedevate ad un romano è possibile avere una società che non sia basata sulla schiavitù la risposta era invariabilmente no è impossibile e chiedetevi quindi quali sono gli assiomi che noi oggi pensiamo irrefutabili e che invece si riveleranno falsi o addirittura ingenui con il senno del poi la chiave di questi cambiamenti è stata sempre la tecnologia noi non siamo animali moralmente migliori rispetto ai romani siamo le stesse bestie di prima abbiamo la fortuna di aver accumulato e aver mantenuto aver gestito e nutrito una conoscenza che in un ciclo virtuoso di miglioramenti progressivi gestisce hardware software e i sistemi che gli stanno attorno in generazioni successive una critica sbagliata che spesso viene rivolta a questo tipo di ragionamento parla delle curve logistiche dice sì sì per carità parli facile oggi che vediamo questa esplosione della legge di Moore ma tanto andrà ad esaurirsi e quindi ci ritroveremo in un plateau da cui non ci muoveremo più confondendo una singola tecnologia con il loro inviluppo perché l'esponenziale di cui io parlo è quella curva dedotta infatti anche nei computer 10 20 30 40 50 anni fa la legge di Moore non ancora formulata era già all'opera quando c'erano i tubi catodici poi sono arrivati i primi transistor realizzati in quantità sempre maggiori sempre più economici in modalità sempre più dense i circuiti integrati oggi stiamo raggiungendo quel livello di integrazione talmente spinta che fenomeni che potevamo ignorare e che disturbavano un po' ma che gli ingegneri realizzando questa profezia che si autoavvera perché non è una legge di natura quella di Moore scavalcavano i fenomeni quantistici non sono più possibili non si possono più ignorare e quindi stiamo già studiando come le prossime generazioni le prossime tecnologie possono mantenere questa promessa attraverso i calcolatori quantistici annunciati i primi esemplari nel 2007 con orrore di quei circoli accademici che comodamente li volevano studiare per i prossimi 30 anni non necessariamente arrivando ad alcunché di pratico oggi i computer quantistici sono una realtà ne abbiamo una installata alla NASA ed è gestita da un italiano Davide Venturelli che è andato alla Singularity University ed è uno dei membri del team che lo sta analizzando programmando applicando in pratica Google ha studiato questo computer quantistico confrontando le prestazioni con un qualunque approccio attraverso algoritmi classici che sui propri server si potessero gestire e quindi in modo molto pragmatico e sperimentale ha verificato che non erano in grado di batterlo e quindi senza preoccuparsi delle polemiche che contrappongono tuttora il produttore di questo computer ai puristi della scienza giustamente praticata nelle università sono andati avanti così come va avanti l'hardware va avanti la capacità dei computer di capire l'universo quando sono nati non erano in grado di vedere e di sentire niente addirittura non avevano memoria quando a fatica gli insegnavamo qualcosa fare un po' di conto moltiplicare dividere spenti la sera la mattina toccava ripartire da zero poi attraverso interazioni prima faticose con le tastiere che stampavano una interazione più snella in cui le lettere venivano visualizzate sullo schermo invece di andare a finire su alberi morti i computer cominciavano a capirci di più e attraverso le interfacce grafiche realizzavano che cose intendevamo quando parlavamo di documenti quando parlavamo di cartelle quando parlavamo di cestini e si rendevano conto che siamo degli animali estetici ci piacciono i colori è più facile comprendere ed analizzare quello che vogliamo nel momento in cui le metafore si arricchiscono e quando si sono svincolati dalla geometria delle nostre dita cominciando a percepire il tocco le loro forme si sono liberate a loro volta dai vincoli che prima subivano e successivamente con telecamere sempre più sofisticate cominciavano a capire non solo il tocco ma anche i nostri movimenti e liberatisi anche dal vincolo della capacità di risoluzione e di visione dei nostri occhi oggi stanno per raggiungere una nuova fase in cui spariscono nell'ambiente non avendo più bisogno di appoggiarsi sugli schermi ma potendoci sentire e potendoci seguire nei nostri desideri attraverso le interfacce conversazionali che stanno già emergendo ma la cosa evidentemente non si ferma qua e la prossima fase di un'integrazione uomo-macchina non solo si basa sulle interfacce cervello-computer ma ci sono persone come me che stanno sperimentando impianti che interiorizzano la capacità dei computer di capirci io ho un impianto all'interno della mia mano che mi permette di dare certe cose al mondo dei computer che prima non potevano comprendere e che oggi più facilmente seguono domani il mondo sarà diviso in due grandi categorie di oggetti quelli che non hanno computer al proprio interno e quelli invece che ce l'hanno e questa seconda categoria di oggetti avrà un vantaggio evolutivo fondamentale e di fatti stazzerà via il primo che sia una sedia che sia una pianta che sia un essere umano e il paradigma vecchio di quello che è un'organizzazione che da migliaia di anni ha realizzato la civiltà umana di un'organizzazione centralizzata gerarchica delle nostre attività sociali ed economiche darà via ad un nuovo paradigma che si basa sulla interconnessione planetaria di reti decentralizzate e distribuite è già possibile oggi vedere dei segnali deboli di questo cambiamento se confrontate la modalità di pianificazione e realizzazione di una centrale a petrolio a gas o nucleare che ha bisogno di investimenti di miliardi di decine di anni di ritorno sull'investimento con le decisioni granulari diffuse che ognuno individualmente può prendere se mettere o meno un impianto solare sulla propria casa o sulla propria azienda è un esempio di questa differenza del potere dei sistemi decentralizzati e distribuiti nella manifattura altrettanto fa la stampa 3D che permette di connettere tutto il mondo con le idee migliori per effettuarne la realizzazione locale accelerando i cicli di miglioramento in modo iterativo è possibile oggi immaginare un passaggio dall'industria agricola che è basata su monocolture vulnerabili che hanno un impatto erosivo e di impoverimento enorme su aree di terreni coltivati sempre maggiori e sottoposti a pressioni sempre più insostenibili passa invece attraverso dei laboratori di piante con tecnologie idroponiche che permettono una riduzione di oltre del 90% di utilizzo di energia acqua terreno una coltivazione locale ricca corrispondente a quelle che sono le esigenze del posto e senza utilizzo di pesticidi e cosa molto importante che trasforma l'attività di produzione di cibo da una proporzionale all'area occupata ad una che cresce con il volume disponibile stiamo anche vedendo la possibilità di una stampa 3D della carne la coltivazione di carne un nostro team della Singularity University era presente nel 2013 quando il primo hamburger coltivato è stato consumato e costato 300.000 dollari realizzarlo e non era molto buono e conteneva solo cellule muscolari non c'erano cellule di grasso che rendono buona la carne ai nostri gusti e quindi costato un hamburger 300.000 dollari mettiamo un milione di dollari al chilo due anni dopo quanto costa la carne coltivata al chilo 11 dollari le associazioni vegane e vegetariane hanno già dichiarato che i loro membri potranno consumare la carne coltivata perché non proviene da sofferenza animale e non è prodotto attraverso un sistema nervoso che lo può esprimere i nostri cellulari sono sempre più ricchi di sensori ci permettono di vedere qual è il nostro stato di salute da preservare invece di intervenire quando è troppo tardi responsabilizzando l'individuo distribuendo e decentralizzando così le decisioni invece di accentrarle in ospedali sempre più focolaio di infezioni e di problemi anche gli ospedali stessi se ne rendono conto nel momento in cui il dei ospitale è sempre il più importante non solo per la riduzione dei costi accedere alla conoscenza non è più un ostacolo le università che cosa servono nel momento in cui la promessa del patto sociale della laurea che procura il lavoro è evidentemente una promessa falsa qual è il nuovo obiettivo se non è l'esclusività di una conoscenza segreta di cui morivano gli alchimisti che dobbiamo raggiungere ma possiamo contare su una fertilizzazione incrociata orizzontale di diverse discipline che accelerano applicazioni sempre più interessanti la finanza è una tecnologia che ci piace additare come causa unica di problemi come la crisi finanziaria economica del 2008 ma è una tecnologia di cui non possiamo fare a meno il commercio mondiale si basa inestricabilmente sulla nostra capacità di rappresentare trasferire trasmettere valore che crea vantaggio reciproco per chi vende e chi compra e si presentano oggi nuove tecnologie che permettono per esempio ai 3 miliardi di persone che non potranno mai aprire a un conto corrente bancario se solo dotati di uno smartphone collegato ad internet di partecipare al mondo finanziario globale moderno alla pari con tutti questi 8 esempi che vi ho elencato vengono spesso e volentieri additati in articoli in rubriche televisive in dibattiti in dibattiti facile controllo politico o industriale come mode passeggere ma nel momento in cui li vedete elencati uno dopo l'altro penso sia evidente che sono inarrestabili e fanno parte di un'ondata ampia e profonda di cambiamento dove quindi la cosa da chiederci è che cosa dobbiamo fare per poterci adattare a questo cambiamento che sta arrivando per non essere spazzati invece via sono molti anni che parlo di questi temi e l'anno scorso ho deciso che era il momento giusto ho creato una non profit basata su Londra che oggi ha 22 ambasciatori in 17 paesi Network Society Research studia e analizza ed insegna ed applica a governi aziende ed individui quelle che sono le misure di un'analisi strategica di disallineamento o di ottimale allineamento dei comportamenti in un mondo globale non è possibile sapere qual è il giusto nel momento in cui vedi una fotografia di New York che è la stessa di fatti della fotografia di Hong Kong la cosa più importante è di avere gli occhi aperti la mente aperta e di accogliere le best practice le capacità di agire e di risolvere i problemi Bloomberg l'ex sindaco di New York ha creato una rete delle più grandi città del mondo che si stanno coordinando per arrivare a questo obiettivo spesso tranquillamente e volutamente ignorando quelle che sono le complessità o le indecisioni e la paralisi della rispettiva nazione e della capitale corrispondente nelle aziende l'incertezza non è qualcosa che è basata su una insufficiente conoscenza dei dati non è qualcosa che è causata da una leadership aziendale che è incapace Salim Ismail il direttore esecutivo che ha guidato Singularity University alla sua fondazione ha pubblicato il libro Exponential Organizations che illustra come questi fenomeni abbiano cambiato la natura dell'impresa uno degli indici del successo aziendale è quello di entrare nel mercato Standard & Poor's 500 che raggruppa le aziende di maggiore capitalizzazione in borsa e se tu raggiungevi questo culmine di successo negli anni 20-30 avevi statisticamente una probabilità di rimanerci fino alla fine del secolo oggi lo stesso risultato ti dà sogni fra virgolette tranquilli per non più di una dozzina di anni e questa incertezza esponenziale è intrinseca perché non è possibile analizzare e misurare le interazioni delle diverse tecnologie ad un grado di approssimazione tale che non venga ampliato all'infinito è necessario continuare ad aggiustare la rotta anche da parte delle aziende più grandi ho accennato come le generazioni di macchine che seguiranno quelle attuali disegnino una rete qualitativamente nuova e internet degli oggetti o internet di tutte le cose come lo chiama Cisco all'interno delle sue conferenze come Cisco Live dove ero keynote speaker questo gennaio questa rete disegna un sistema di sensori sempre più granulare che è necessariamente autonoma se già oggi abbiamo un certo fastidio nel momento in cui il cellulare ci ordina di ricaricarlo e siamo circondati da una mezza dozzina di apparecchi di questo tipo che ci rendono schiavi nel momento in cui saremo circondati di centinaia o di migliaia di nodi dell'internet degli oggetti questi dovranno essere assolutamente autonomi e questa autonomia è qualcosa che vediamo già oggi timidamente è espressa dagli aspirapolveri robotici che ricordano dove è la presa di corrente e quindi non hanno bisogno di essere ricaricati perché tranquillamente vanno e si ricaricano per poi finire il lavoro e le reti dell'internet degli oggetti hanno oggi una capacità di raccolta dei dati che deve necessariamente essere organizzata su principi diversi rispetto a quelli che vediamo oggi la comoda vulnerabilità della centralizzazione dei dati che viene sfruttata dai servizi segreti di tutto il mondo per corrompere la legalità della società civile è supportata dalle architetture fallimentari di google di facebook e di twitter che meritano di morire per salvare la civiltà umana che non può soccombere all'interno di questa crisi che stiamo vivendo la capacità di sentire e di sentire il mondo che crea una capacità di introspezione delle macchine potrà secondo alcuni portare successivamente attraverso generazioni di evoluzione all'autocoscienza che cosa potrà avvenire abbiamo già visto dei passaggi improvvisi passaggi dove strutture convintamente al potere come l'icona della generazione delle macchine fotografiche chimiche che è stato leader del proprio mercato per oltre cent'anni è stato spazzato completamente via da una dozzina di ragazzini davanti al loro computer e oggi vediamo un passaggio altrettanto fondamentale e di due mesi fa il rapporto rilasciato dalla Banca Nazionale di Abu Dhabi che tutta la richiesta di energia aggiuntiva che sarà necessario soddisfare nel Medio Oriente in quanto finanziata da loro sarà soddisfatta da energie rinnovabili principalmente energie solare e che oggi hanno già dei piani finanziabili per impianti solari che senza alcun aiuto di Stato sono in grado di competere con un petrolio che costa 10 dollari al barile le piattaforme di questo cambiamento che vediamo attorno a noi sono in grado di disegnare nuove comunità che non sono solo sostenibili perché non è sufficiente mantenere uno stato di degrado ambientale che abbiamo raggiunto attraverso la nostra avventura degli ultimi diecimila anni dobbiamo essere in grado di decidere qual è la direzione in cui dobbiamo andare per implementare comunità che siano di rigenerazione di un equilibrio che attualmente è molto lontano da quello ottimale non solo all'interno di una natura di cui non dobbiamo essere superficialmente rispettosi ma anche all'interno della nostra civiltà umana un'altra frontiera che sta arrivando e che è un passaggio necessario verso le realtà dell'intelligenza artificiale più spinta per chi i computer non possono non capire tutte le dimensioni dell'essere umani è quello del calcolo emozionale ha fatto scalpore inutilmente l'esperimento di facebook che esponeva qualche centinaio di migliaio di propri utenti a notizie negative oppure positive per poi concludere che in effetti ne venivano influenzate i computer stanno imparando non solo a leggere ma anche a scrivere le nostre emozioni immaginate che il vostro smartwatch rilevando un una correlazione strana tra il vostro movimento che è di passi normali e regolari ma il battito cardiaco accelerato chieda al calendario cosa sta succedendo e questo rispondendo dica in effetti sta aspettando una chiamata con il capo e che fra di loro avvertano il riproduttore musicale dell'ambiente perché questo per quei 10-15 minuti che mancano mandi della musica che possa tranquillizzare e quando la telefonata avviene e il sistema di gestione del personale conferma che non sono stato licenziato si diano una pacca sulle spalle reciprocamente buon lavoro questo tipo di esperimento è perfettamente fattibile già oggi è solo questione di collegare hardware software design in applicazioni avanzate che l'infrastruttura distribuita decentralizzata mette a disposizione saremo in grado in effetti di analizzare quelli che sono dei presunti universali della comunicazione emotiva umana perché in prima approssimazione certo tutti annuiamo e tutti diciamo di no così ma ci sono importanti differenze nel momento in cui noi realizziamo macchine emotive nel momento in cui noi realizziamo macchine che sono in grado di decidere cosa devono fare una macchina robotica di google si rifiuterà di partire se l'unico occupante risulta femmina e il gps della macchina deduce di essere in arabia saudita oggi già le macchine sono in grado di prendere importanti decisioni e è diventato famoso l'esperimento di IBM che ha costruito un computer che ha battuto i migliori giocatori umani ad un gioco di quiz senza insegnargli niente sulla meccanica dei videogiochi DeepMind di google ha raggiunto l'obiettivo di riuscire ad analizzare capire e diventare campione di una quarantina di videogiochi e i sensi dell'intelligenza artificiale artificial intelligence di una macchina robotica che ampliano quelle che sono le possibilità umane in effetti devono complementarsi non solo AI ma anche IA intelligence augmentation che già negli anni sessanta era uno degli obiettivi della realizzazione delle reti di computer per poter collaborare meglio e oggi nel momento in cui stiamo rapidamente coevolvendo con la nostra tecnologia essere in grado di collaborare a livello planetario è una sfida esistenziale che non possiamo non cogliere dobbiamo essere in grado di analizzare di realizzare nuove superstrutture che siano in grado di restituirci un pieno controllo di sistemi che troppo complessi oggi ci stanno sfuggendo e che ci preparino alle prossime sfide importanti è molto importante secondo me tra l'altro metterci d'accordo che non è desiderabile una dittatura mondiale che le variazioni di sistemi morali e di sistemi sociali sono variazioni necessarie perché è solo attraverso una sperimentazione continua che possiamo trovare nuove configurazioni e soluzioni robuste ai nostri problemi viviamo in un mondo veramente incredibile qualche centinaio di anni fa se non so se la parola esisteva ma facevi quello che oggi chiamiamo imprenditore e sbagliavi il meglio che ti poteva succedere è che andavi in galera qualche migliaio di anni fa se facevi quello che oggi chiamiamo cacciatore ma allora era la vita e sbagliavi ti potevi permettere di farlo per non più di qualche giorno e poi morivi e oggi abbiamo il privilegio di poter sperimentare e di sbagliare con il sostegno di una struttura sociale che ce lo perdona che anzi ci incoraggia a farlo perché si rende conto che non sappiamo nemmeno se 7 miliardi di individui sono sufficienti per produrre quel genio che sarà in grado di trovare la soluzione ad ebola ad isis all'asteroide che arriva o ad altri problemi che abbiamo e l'innovazione che creiamo e l'invenzione che ci porta nuove risposte non fanno altro che creare blocchi di costruzioni per nuove domande che volentieri ci chiediamo che ci esaltano in una ricerca di adozione di metodi che chiamiamo startup la missione che dobbiamo necessariamente porci e che non può essere descritta in un business plan perché è impossibile intrinsecamente prevedere come si svilupperà il mondo nell'arco dei prossimi 5 anni deve essere complementata dalla misura dei passi e delle correzioni corrispondenti e solo nella corrispondente complementare coesistenza di questi due la missione a lungo termine e l'iterazione del percorso intermedio che possiamo sperare di avere una chance di raggiungere il successo dove tra l'altro quello che per me è particolarmente esaltante è la possibilità non solo di imparare ma anche di insegnare immediatamente trovando una soddisfazione nella autoselezione di nuove comunità io spesso mi definisco un outsider di professione perché arrivo all'interno di un campo di cui non ne so niente e un po' alla volta trovo agganci interessi domande utili e la semplice espressione di questi elementi di conversazione all'interno di un campo permette ad un gruppo di aggregarsi ed eventualmente portare dall'idea all'azione in un intervallo che si riduce sempre di più fino ad azzerarsi abbiamo opportunità senza fine è matematicamente garantito che la nostra avventura non sarà mai finita a meno che non siamo noi a deciderlo in effetti è la cosa più importante noi abbiamo la libertà e la responsabilità di fare queste decisioni e ognuno di voi può decidere se voler essere parte di questa avventura grazie grazie